Quando ero piccolo, lessi un racconto, una novella che si chiamava Il piccolo scrivano fiorentino, me la sono dimenticata, ma c'era questo ragazzo che scriveva, 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 si macerava per scrivere, ecco era quello che volevo fare da grande, c'erano alcuni giornalisti che avevo conosciuto a vent'anni, che scrivevano un articolo per il messaggero, poi leggevano un libro perché facevano parte di una giuria, poi contribuivano a dirigere un festival e scrivevano un altro articolo per una rivista, tutto insieme in una giornata caotica, affollata, ma mi sembrava bellissima. Ecco poi per tutta la vita ho fatto proprio questo, ho scritto articoli per quotidiani, ho collaborato con radio e televisioni, con festival, ho diretto dei festival, ho presentato delle serate, ho condotto degli incontri con registi, attori, musicisti e mi è sempre sembrato molto bello, molto interessante, molto vitale e anche in fondo molto utile nel suo piccolo agli altri, cercare di fare da tramite, da collegamento tra chi fa le cose e chi queste cose le guarda, le apprezza, le ama, le conosce. Ecco, io vorrei continuare a farlo e quindi questo è un appello di un altro piccolo scrivano fiorentino, che sono io. Se avete da fare articoli, recensioni, articoli per riviste, per mensili, per quotidiani, conduzioni di serate, incontri, qualsiasi cosa che ha a che fare con il cinema, ma anche con il teatro, la musica, lo spettacolo, per quello che posso fare, scrivetemi, contattatemi e fatemi lavorare, giovanni.bogani.gmail.com Grazie a tutti.